Ciao a tutti, io sono Daniele E io sono Matteo Nicoletta Sì, meno Ciao a tutti, io sono Daniele Io sono Matteo Nicoletta La mia e mezzo? Vabbè, dai Ciao a tutti, io sono Daniele Io sono Matteo Nicoletta Un po' troppo... Un po' basso, sto Sì Ciao a tutti, io sono Daniele Ciao a tutti, io sono Matteo Nicoletta Ah, senza ciao a tutti perché ho detto c'era io Ah, per prendere il tono tuo, capito? No, però sembra che me stai a pie per culo Sembra Ciao a tutti, io sono Daniele E io sono Matteo Nicoletta Perché devi dire pure il cognome, scusa? Perché sembra un nome, così sembramo di più Matteo Nicoletta, Daniele, siamo tre Ciao a tutti, io sono Daniele E io sono Matteo Benvenuti sul nostro canale Il fenomeno nasce per dar sfogo al nostro sguardo cinico e dissacrate Sul mondo e sui fenomeni che lo abitano Abbiamo cominciato con eventi come San Valentino, l'8 marzo, la Pasqua Ma questo è solo l'inizio Infatti noi ci occupiamo anche della produzione di documentari Di pubblicità, di parodie su sketch comici No, documentari no Parodie su sketch comici, webseries Parodie, o parodie o sketch comici Di parodie, di sketch comici, di webseries Soprattutto No, e soprattutto Soprattutto di webseries Ma non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale qui E potete anche seguirci su facebook, su twitter, su google plus per anticipazioni, retroscena e backstage Che è google plus E poi se siete matti cagliardi che state belli fomentati Ci potete seguire su instagram E che c'è Non siamo nessun follower Iscrivetevi Un salto Grazie per la visione!